Ci sono delle armille fisse, quindi che non si muovono, e delle armille mobili, quindi questa sfera può ruotare. E mostra appunto da un punto di vista fisico-matematico il movimento che il sole compie in un anno e le variazioni del tempo e delle stagioni. Un altro particolarissimo strumento è questo. Lo sapete perché? Reré dice che è una specie di bussola. E effettivamente c'è quasi, perché l'astrolabio significa proprio prendere le stelle.